Sì, innanzitutto ero straemozionato per la mia prima partita appunto in casa, per il sostegno dei tifosi che sono stupendi, sono molto contento del mio sautico personale, ma sono più contento per la vittoria, che sono tre punti molto fondamentali, non per la classifica, ma perché secondo me vincere è giù da vincere e quindi dobbiamo continuare con questo passo pronto. Al mister mi ha detto di giocare tranquillo, come so fare, appunto quando il gioco si sviluppava da sinistra, di stare stretto vicino ai centrali, vicino a Silvestri, e penso di averlo fatto bene per tutto l'arco della gara, poi appunto quando il gioco si sviluppava dalla mia parte di spingere senza pensieri, di fare il mio insomma. No, sì, sono partite tutte difficili da qui alla fine, soprattutto contro squadre che si devono salvare, che poi sono squadre che giocano contro la prima classifica, quindi ricevono sempre quel qualcosa in più. Ripeto, sono tre punti molto fondamentali, adesso abbiamo due partite fuori caso difficilissime, e dobbiamo farci trovare tutti quanti pronti, a partire da domani dall'allenamento, così chi sarà chiamato in causa di farsi trovare pronti. Io sono testardo, quindi ci provo, anche col cross, magari sbaglio il cross, ci riprovo, e oggi per poco non segnavo, ripeto, sono contento davvero della prestazione che ha fatto la squadra, ma questi tre punti che sono fondamentali. Ma la percentuale, sincero, non la so, però so solo che quando sono arrivato, sono arrivato in una squadra che aveva fatto 14 vittori consecutive, un gruppo stupendo che mi ha accolto benissimo fin dal primo giorno, e ormai ho confidenza con tutti quanti i giocatori, dei più giovani e dei più vecchi, sono tutti bravissimi ragazzi che ti fanno sentire a tuo agio. E poi per quanto riguarda la concorrenza, la concorrenza deve solo fare che bene, ti porta a fare qualcosa in più in allenamento, e appunto, ripeto, quando sarò chiamato in casa mi farò trovare pronto come ho fatto stasera. Grazie a tutti.